Quello che vedete nelle mie mani è il nuovo Moto Z2 Play che da oggi potete con Radio Number One e con Motorola vincere in modo davvero semplicissimo. Date un occhio al link che trovate sul video, sarà qui, sarà qui, sarà lì, insomma c'è un link da qualche parte che vi mostra la possibilità di andare sulla pagina di Motorola e di portare a casa questo Moto Z2 Play. Per voi che già lo conoscete sapete che tipo di prodotto andate a portare a casa rigorosamente in regalo, lo faremo tra l'altro da oggi fino alla fine del mese di settembre. Per chi invece il prodotto non lo conoscesse io voglio farvi vedere immediatamente di che cosa stiamo parlando. Un prodotto con un ottimo display, davvero gigantesco, addirittura da 5,5 pollici. Quando girate il telefono avete questa particolarità, vedete la cover è stata tolta esattamente in un secondo perché questi connettori magnetici servono per agganciare gli accessori che Moto Z2 Play ha. Si chiamano Moto Modes, ve ne mostro uno ad esempio, questo è un altoparlante di JBL, ottima qualità audio agganciata al vostro smartphone. Per utilizzarla basta essenzialmente fare quest'opera, cioè agganciate in questo modo il telefono al vostro Moto Mode e da qua in avanti avrete un altoparlante Bluetooth a vostra disposizione. Oltre a questo c'è un sensore fotografico di Hasselblad, un battery pack supplementare, addirittura un proiettore. Questi sono ovviamente accessori, non sono parte di questa promozione, non vi rimandiamo a casa in regalo. Però sono opzioni che potrete utilizzare per rendere ancora più efficace, ancora più potente il vostro Moto Z2 Play. E allora mi raccomando, con Radio Ramanone e con Motorola pronti per portare a casa il vostro nuovo smartphone. In bocca al lupo!